Questo Natale lasciati ispirare da Danza di Fiori, il nuovo capolavoro L'Erbolario, una linea profumata, seducente e preziosa, come un dipinto floreale. L'Erbolario Questo programma è offerto da Fidelity International Benvenuti su Blu Reti News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra 7 miliardi di tasse in più Mercati, occasioni sotto l'albero Fondi Corco schiude le porte a BlackRock Bitcoin è un Ponzi 4.0 Consulenti, ecco i dettagli delle prove valutative 2019 Nuovo Albo, altro giro, alti autonomi La manovra di bilancio 2019 porterà in dote più tasse che andanno a colpire soprattutto imprese e banche Ci sarà l'ecotassa sul settore delle auto, l'amento dell'IRES, l'azzeramento del credito di imposta IRAP, i balzelli sui giochi e web tax sul commercio online In tutto fanno 7 miliardi di euro Questo è il frutto dei febbrili negoziati con l'Unione Europea per raggiungere l'obiettivo di abbassare i deficit di bilancio e al contempo trovare le risorse Per finanziare le due riforme bandiera del governo giallo verde, quota 100 per le pensioni e il reddito di cittadinanza In più ci sarà la potenziale mannaia delle clausole di salvaguardia, ovvero l'aumento dell'IVA promesso dalla Commissione nel caso i conti non dovessero tornare Nel 2020 vale un aumento di 23,1 miliardi di euro che nel 2021 potrebbero diventare 28,7 Ammesso che poi il governo non trovi le risorse per disinnescare gli aumenti dell'IVA Per il 2019 non ci sono minacce sui mercati, tra i nervosismi da Brexit e la guerra commerciale Stati Uniti e Cina Potrebbero essere diverse le occasioni sotto l'albero per chi investe Gli aspetti di piazza affari consigliano di guardare con interesse agli utility meno toccati dai rallentamenti dell'economia Tutto da seguire anche l'andamento dei BTP italiani decennali L'accordo trovato con la UE e il conseguente abbassamento dello spread potrebbe far abbassare il rendimento lordo a 2,45% Con il prezzo che al punto crescerebbe fra il 103 e il 104 Fuori confine, occhio al lusso londinese Le aziende più esposte agli Stati Uniti come Barberry possono offrire margini di rivalutazione Alla luce del più probabile accordo di libero scambio tra Regno Unito e Stati Uniti A prescindere da come andrà la Brexit E in America, titoli come quelli di Apple, Netflix o quelli legati alla cybersicurezza Che hanno perso molto in quest'ultimo periodo Potrebbero essere ottime occasioni d'acquisto, soprattutto se valutate sul lungo periodo La trattativa con BlackRock mi limito a ricordare che Carlo Messina ha dichiarato Che non è in vista nessuna partnership nell'asset management Risponde così Tommaso Corcos a Didi Eurison L'asset manager di Intesa San Paolo riguarda le voci di una potenziale alleanza Con la società di investimenti statunitense BlackRock Un'eventualità che peraltro era piaciuta molto agli analisti Il dirigente è intervenuto sulla stampa nazionale con un'intervista che parla di bilanci di fine anno Ma anche di futuro Per Corcos il 2018 che volge al termine è stato un anno difficile Con una decelerazione dell'economia in Europa e in Cina Anche se per il 2019 le previsioni non sono del tutto negative Per gli Stati Uniti vediamo un rallentamento Mantenendo tuttavia una crescita intorno al 2,5% Mentre l'inflazione è una preoccupazione momentaneamente accantonata I prezzi, conclude il presidente di Assogestioni Delle materie prime del petorio e della stessa dinamica dei salari Ci lasciano tranquilli su questo fronte I bitcoin sono veleno per topi al quadrato Parola dell'imprenditore ed economista Warren Buffett Che poi rincara la dose Si tratta di un asset che di per sé non sta creando nulla Quando si compano asset non produttivi Tutto quello su cui si conta è che ci sia qualcuno che paghi di più In pratica la regina delle criptovalute sarebbe una sorta di schema Ponzi 4.0 Il bitcoin è stato protagonista di un crollo perché è passato da oltre 12.000 dollari di valore del 2 gennaio scorso A circa 4.000 di questi giorni A tamire di più sono i molti piccoli risparmiatori Che magari hanno investito nei momenti di maggiore euforia sulle criptovalute E che adesso rischiano di rimanere con il cerino in mano Una speculazione che ha fatto la fortuna di quelli che hanno investito per primi Ma la storia potrebbe essere diversa per quelli che sono arrivati dopo A meno che non sia un'incollabile fiducia nella ripresa di un presunto oro digitale E una certa passione per il rischio Lo scorso 19 dicembre 2018 Il portale dell'organismo di vigilanza tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari Ha pubblicato la delibera 986 Relativa all'indizione delle sessioni prima, seconda, terza, quarta e quinta Per l'anno 2019 della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari Si prevedono appelli nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2019 Nelle sedi di Roma, Milano, Venezia e Palermo Secondo, il calendario stabilito È possibile presentare una sola domanda di partecipazione alla prova valutativa Per uno degli appelli previsti a partire dal 14 gennaio 2019 E l'invio può essere effettuato fino alla chiusura del termine di presentazione della domanda indicato nel bando Il calendario degli esami per l'iscrizione alla prova Completo delle informazioni relative alle sedi, alle date di svolgimento della stessa È disponibile nella pagina dei portali di OCF Dedicata ai bandi delle prove valutative Continua a crescere il popolo dei consulenti autonomi Iscritti all'apposita sezione nel nuovo albo unico dei consulenti Il portale dell'organismo di vigilanza tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari Ha trasmesso la delibera 989 Contenente 5 nuovi nuovi nativi appartenenti alla categoria degli autonomi Vediamoli nel dettaglio Marco Bonfante di Bussolengo, Massimo Mattioli di Sassuolo Leonardo More di Borgosesia Michele Previati di Ferrara e Gabriele Rocchi di Milano Con questa cinquina il numero degli autonomi presenti nell'albo sale a 94 unità Dopo che nella scorsa settimana vi avevamo parlato del superamento di quota 100 per il popolo Fionli Sicuramente motivo di soddisfazione per le più note associazioni nazionali di autonomi e SCF Rispettivamente NAFOP e ASCOFIND Oggi niente consiglio del giorno data la chiusura delle borse Ma ecco lo spazio del nostro top and flop Con la migliore e la peggiore performance giornaliera Nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia Sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAF A guidare la classifica un prodotto Merian Mentre ultima posizione per Planetarium È tempo di saluti, siamo alla vigilia di Natale Vi auguriamo un buon Natale in famiglia e un ottimo investimento a tutti voi Questo programma è offerto da Fidelity International SIGLA 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 SIGLA